La frenata di emergenza attiva calcola la distanza tra il proprio veicolo e quello che lo precede. Attiva segnalazioni acustiche e visive sul quadro della strumentazione in caso di rischio di collisione frontale. Se la frenata del conducente non è sufficiente, il sistema viene attivato per evitare o ridurre l'urto. Il sistema può essere disattivato tramite lo schermo multifunzione e viene riattivato automaticamente al riavvio del motore. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS